Ciao e benvenuti sul nostro canale di supporto dell'aiuta. Può succedere che Windows 10 possa dare problemi durante l'utilizzo. In questo video vi mostriamo come riuscire a risolvere eventuali problemi tornando ad un punto in cui Windows andava bene. Fai clic destro su Start e scegli Impostazioni. Nella barra di ricerca in alto scrivi Crea punto di ripristino. Nella finestra Proprietà del sistema scegli la scheda Protezione del sistema. Se non è attivo il pulsante, devi prima entrare in Configura ed attivarlo. Puoi anche scegliere la quantità di spazio massimo. Quindi clicca su Crea e segui le istruzioni. Ti chiederà di mettere un nome. Se non metti niente apparirà comunque la data e l'ora. Una volta terminato fai chiudi. Per utilizzarlo ritorna sempre in Crea punto di ripristino, Protezione sistema e scegli Ripristino configurazione sistema. Troverai la lista dei punti ripristino disponibili. Scegli quello che desideri. Quindi segui le istruzioni e si avvierà il ripristino al punto precedente. Se per qualche motivo il ripristino del sistema non funziona e non riesci a risolvere, puoi provare a utilizzare il ripristino di Windows. Entra in Impostazioni, scegli Aggiornamento e sicurezza e seleziona Ripristino. Qui sotto Avvio avanzato clicca su Riavvia ora. Si aprirà quindi la finestra di avvio avanzato dove potrai scegliere la risoluzione dei problemi. Entra in Opzioni avanzate. Qui clicca su Ripristino del sistema. Il tuo PC si riavvierà e dovrai inserire la password del tuo account. Da qui potrai quindi eseguire un ripristino ad un punto precedente come spiegato prima. Come sempre, se hai bisogno di aiuto o hai domande, puoi sempre raggiungerci attraverso i social media Facebook o Twitter o qui sul video tramite commenti. Se ti è piaciuto, fai like così sappiamo che queste tematiche ti possono interessare. Grazie per la visione. Ciao e a presto!